Tu, innanzitutto, come l'hai vissuta? La questione delle lezioni di Della Vedova, dell'intervento di Tabacci, i famosi pulmini, tutta quella roba lì? Il problema è stato quello che è successo dopo, nel senso che io non mi ero fatto molta illusione perché ero consapevole di come un congresso così aperto, a tessere aperte, iscrizione eccetera, avrebbe avuto anche delle dinamiche, diciamo così, di vecchio stampo e vecchio stile. Mi aspettavo che sarebbe stato fatto qualcosa di più per arginare queste dinamiche, che invece sono state un po' alla fine cavalcate. Chi doveva arginarle? Beh, in quel momento Della Vedova aveva già la responsabilità e, diciamo, accettare esplicitamente alleanze tra spezzoni già organizzati. Quindi parli del partito di Tabacci? Beh, non c'era solo quello, poi c'erano altre organizzazioni, adesso non voglio neanche fare in modo, perché il mio problema non è veramente parlare male di questi e di quelli. Te lo chiedo per capire. No, nel senso che c'erano diversi gruppi, organizzazioni territoriali di provenienza politica antica eccetera, che hanno partecipato al congresso. Un modo per arginare il gioco delle tessere sarebbe stato tenersi fuori, invece le varie liste presentate di sostegno ai vari candidati erano già geograficamente la rappresentazione di aggregazioni di gruppi che sostenevano questo o quello. Tra l'altro non c'era neanche il dibattito sulla mozione diviso da quello sulle persone, quindi non c'era neanche la possibilità di, come dire, allearsi su degli obiettivi. Ti dovevi per forza schierare, quindi è stato organizzato con delle regole che già favorivano la divisione per fazioni. C'è stato il fatto che c'è stato, chi lo vuole, come dire, sottostimare. Io penso che tutti quelli che erano presenti, ecco non ho bisogno di dire quanto impatto abbia avuto. Tutti quelli che erano presenti sanno che cosa è successo, da parte le testimonianze, si vedeva tutte queste persone che arrivavano, che ovviamente non avevano ascoltato una parola perché era stata accettata dal regolamento che le votazioni praticamente sono iniziate alla fine del congresso e sono rimaste aperte fino al tardo pomeriggio. Quindi c'erano persone che continuavano ad arrivare con i pullman e che non sapevano nulla, non avevano ascoltato nulla, pagate, sicuramente organizzate, poi non so quello che è stato pagato o non pagato, ma era evidente e poi è stato confermato dalle testimonianze. Ma questo di per sé non sarebbe stato così grave. Il problema è che dopo che una cosa del genere succede bisogna ammettere che c'è un problema e che lo si vuole affrontare e come lo si vuole affrontare. Perché se no la volta dopo risuccede peggio, perché se quei metodi vengono premiati, che cosa può garantire, ma neanche garantire, che cosa può produrre un risultato diverso? Niente. Perché se facciamo finta anche che non ci fosse stato nessuno pagato eccetera, se alle elezioni normali io organizzo un pulmino, vado a prendere le persone, le porto al seggio e poi le porto a pranzo, le porto... Non lo posso fare, si chiama voto di scambio, non si può fare. Il fatto che non ci sia una legge che direttamente lo applica all'interno dei partiti, non può voler dire che è una cosa buona e giusta, perché che differenza fa? Siccome in Italia e anche costituzionalmente il partito è il luogo dove poi si selezionano i candidati per le elezioni, quindi è un passaggio intermedio attraverso il quale poi delle persone magari vanno in Parlamento. Magari vanno nei consigli regionali, magari vanno nei consigli comunali, quindi come fai ad accettare all'interno del tuo partito qualcosa che non accetti fuori? Significa che allora sei disposto anche ad accettarlo fuori, quindi la cosa per me che è stata decisiva per decidere di non spendere più energie in questo tentativo, non è stato il fatto in sé o la mia non elezione o quello che era successo e che dopo, a parte un po' di così, a questo punto mi viene da dire finta indignazione indispensabile per mantenere la decenza esterna, esteriore, nulla è stato fatto per impedire quello che accade in tutti i partiti. Quindi per te non è stata una delusione? Non stai dicendo che è stata una delusione, non ci sei dimasto male? Sono abituato ormai a applicare un po' come l'ottimismo, il pessimismo, l'illusione, la delusione, sono un po' categorie che cerco di tenere fuori e ci riesco anche abbastanza nel come vivo queste cose, nel senso che non ero né illuso e quindi non deluso. Per me è stato un tentativo. Ovviamente se l'ho fatto è perché speravo che comunque anche il connotato della mia candidatura potesse aiutare, ma anche gli altri candidati e il dibattito, a fare prevalere delle logiche di confronto di idee e di progetti invece che delle logiche di quella roba lì di cui abbiamo parlato. Ovviamente non essendo riuscito a fare una cosa che ho cercato di fare, non è che ero contento di non esserci riuscito, però non è che l'ho fatto perché ero sicuro che andasse bene, semplicemente per me era fondamentale, ma per più Europa, non per me, per il mio interesse personale, per il futuro di più Europa, che ci fosse pari dignità tra la politica competizione per il potere, che è una cosa seria e che ci deve essere, e la politica di mobilitazione, creazione di proposte, di obiettivi nella società, ci fosse pari dignità tra queste due componenti. Se non c'è pari dignità, pari riconoscimento, un peso equivalente, le dinamiche sono quelle che abbiamo visto in decenni della storia nel nostro paese, non è solo un problema italiano e il risultato non può essere positivo. Cioè è come se io faccio cadere, lascio andare questo oggetto e l'oggetto cade per terra. Sono dinamiche ineluttabili.